In partenza Otero Disgray cerca di tenere la corda, a largo parte forte Ostinto che attacca Otero, in bocca della prima curva, si delineano le posizioni con Otero a comandare, nei confronti di Ostinto, Ostinto avvicina Otero, in terza ruota lo scatto di Marcel Griff, seconda posizione è partito bene Ispanofri lungo la corda, lo stesso ha fatto Miruel Egei, 16 i primi 200 metri, Marcel Griff va ad impegnare il leader che si oppone, 31 il quarto iniziale, Otero, Marcel Griff, Ispanofri e Miruel Egei che abbandona la posizione alla corda e viene schienata all'arco, in terza pariglia Natalia Griff, in quarta Mimosa del Sole, 45-2 600, passaggio davanti alle tribune, Otero attaccato a fondo da Marcel Griff, Marcel Griff insiste, 1-2 gli 800, andatura si mantiene sostenuta, con Otero che si è opposto a Marcel fino al chilometro, stappato Marcel Griff, Ispanofri lungo la corda Miruel Egei che sposta in terza ruota, chilometro in 1-17-6, Miruel punta in avanti in terza ruota, trova varchi utili Lindbergh e Egei, lo scatto di Natalia Griff, sta passando Miruel su Otero e Egei, poi Natalia in terza ruota, Miruel Egei prende vantaggio, qualche problema di andatura per Otero e Egei che si riprende, retta d'arrivo, ha fatto il vuoto, Miruel Egei con 20 metri di vantaggio su Otero e Natalia Griff, battute finali, Miruel per proprio conto, per la seconda moneta, il numero 9 di Otto Maso MTT precede Natalia Griff e uno sfortunato Otero Disgrèi, fa un numero Miruel Egei, media di 1-16-4, con Giorgio D'Alessandro Junior in salti, il portacolori di Biagio Bevilacqua, i colori della scuderia Beni, il training di sabato Bevilacqua, e così si conclude il convegno, Miruel Egei paga 14,63 euro.